Credo che ci sia da... la Regione di Monte, devo dire, lo dico io... ...di aver dormito nella capacità di conquistare fondi europei. La critica che io faccio è un'altra, cioè la critica che io faccio, che forse vale per tutte le Regioni, per altre, siamo tra critica primordiale, addirittura che non hanno preso niente. E che non si è forse riusciti, forse è difficile, non voglio... Però credo ci dobbiamo dare come obiettivi. A fare progetti che siano realmente progetti integrati e che consentano di concentrare le risorse al massimo, mettendo insieme territori e settori.